e arriva la frittata caterva di zucchine cipolla e olio facciamo andare affinché le zucchine saranno pronte belle spesse niente sale lo mettiamo alla fine fiamma bella sostenuta ogni tanto dimentica da non girarle così si abbronzano ci vogliono più o meno 15 minuti uova parmigiano sale e pepe sbattiamo zucchine nelle uova padella antiaderente con un pochino d'olio e andiamo col composto che livelliamo bene e adesso niente solita cosa controlliamo che non si attacchi sui lati sul fondo mettiamo il coperchio così sopra si cuoce prima fiamma bassa se sei principiante fiamma media se sei confident aspetta che non ci sia quasi più liquido qua ce n'è un pochino io rischio perché mi sono rotta le balle cari bambini quella è una cappa sporca e questa è una frittata ecco la bella abbronzata sotto ci mette molto meno diciamo cinque minuti possiamo anche spegnere il mio rompimento di palle è stato premiato se non è stato difficile brava che non ti sei attaccata brava e che bella bellissima ora facciamo raffreddare però più che una frittata una torta e zucchine ok ok ok